Il consueto buongiorno, buon mattino, buonasera, buonanotte, buon pomeriggio, buon tutto, buona vita a tutti coloro e a tutte coloro che si accingono, si accingeranno a guardare questo video. Oggi parliamo della famosa svolta, perché è un periodo in cui molta gente, proprio grazie a questa situazione particolare, confusionaria, imprecisa, contraddittoria che stiamo vivendo, si chiede ma ci sarà una svolta, ci sarà un cambiamento, tornerà tutto come prima, non tornerà tutto come prima. Allora dobbiamo partire da un concetto ben preciso, che nulla mai torna com'era. L'universo è in completa evoluzione, ogni minuto, ogni secondo è diverso dal secondo precedente appena vissuto. È tutto in cammino, è tutto in movimento, è tutto in evoluzione, è tutto in trasformazione. Quindi dobbiamo magari toglierci dalla testa che tutto torni come prima. Ma dobbiamo anche metterci in testa che tutto può tornare meglio di prima o tutto può tornare peggio di prima. Questo dipende solo ed esclusivamente da come noi agiamo, ci comportiamo, da quanto siamo capaci e determinati nel perseguire i nostri desideri, la nostra evoluzione, la nostra felicità. Da quanto noi siamo determinati, esigenti da noi stessi per poter continuare a camminare con l'universo. Ci hanno abituato ad un mondo apparentemente statico, perché vai a scuola per avere un lavoro, per formarti una famiglia, per poi invecchiare e per poi consumarti sottoterra con i vermi. ma in realtà non funziona così. E la dimostrazione ce la dà la storia e anche la contemporaneità di questo periodo. abbiamo visto in pochi mesi ciò che noi ritenevamo di consuetudine routine quotidiana, stravolgersi completamente. E mai ci saremmo sognati di dover tirare fuori i denti per riottenere nuovamente libertà, situazioni che ci sembravano scontate. E invece è proprio così. Perché è successo tutto questo? Beh, dipende anche qui da che interpretazione vogliamo dare a tutto questo. E' successo per punirci? Se noi siamo abituati ad essere vittime di una determinata situazione possiamo anche dire di sì. Ma se abbiamo voglia di comprendere possiamo anche capire che è successo per insegnarci qualcosa. Anche se chi l'ha combinata, la sta combinando, non lo fa con lo scopo. Ma siamo sempre qui. Coloro che operano nella distruzione, nel non amore, nelle basse frequenze, operano nell'ignoranza, nella incapacità e sono facilmente non solo smascherabili, ma da parte di chi opera nel giusto e nell'amore sono facilmente distruttibili. Perché noi potremmo volendo trarne un grande insegnamento da tutto questo caos? Il primo insegnamento che possiamo trarre è per l'appunto quello che nulla è statico. Tutto si muove. E se noi non ci muoviamo con il sistema, rimaniamo fermi e prima o poi perdiamo i pezzi perché c'è qualcuno che si muove e noi restiamo indietro. Seconda considerazione. Noi cosa vogliamo? E cosa facciamo per ottenere quello che vogliamo? Vogliamo un sistema schematico, materiale, statico? Vogliamo un sistema nuovo, evolutivo e umanistico? Perché le direzioni a prendere sono totalmente diverse e di molto differenziate. Allora in base a dove noi vogliamo andare dobbiamo sapere prendere la direzione giusta senza aspettare che la prenda qualcun altro perché qualcun altro non prenderà la direzione che interessa a noi qualcun altro prenderà la direzione interessata a lui e da chi siamo dominati in questo momento dai mercati, dalla finanza, da una politica che ormai non conta più nulla da una speculazione finanziaria da un materialismo dominante dal consumismo Allora, vogliamo proseguire su questo cammino o vogliamo distoglierci da questo cammino? Se vogliamo proseguire su questo cammino vabbè, non è che dobbiamo fare molta fatica ci basta continuamente autogiustificarci ci basta continuamente borbottare facendo discorsi da bar ma che alla fine non portano a nulla senza impegnarci ci basta sentirsi sempre delegatori e continuare a colpevolizzare gli altri ci basta continuare a pretendere dagli altri senza ritenersi protagonisti quindi è una situazione che non richiede questo grande impegno e questa grande fatica diverso è se noi vogliamo proseguire l'altra direzione cioè la direzione umanistica la direzione di crescita la direzione evolutiva la direzione del cammino e allora in quel caso ci dobbiamo attivare mettendo in campo il meglio delle nostre risorse il meglio della nostra energia il meglio delle nostre capacità il meglio della nostra intelligenza e cominciare a compiere scelte che portino noi e coloro che ci stanno attorno in questa direzione magari iniziando a informarli magari iniziando a discuterli magari iniziando a parlarne sì ma iniziando anche con quelle piccole azioni che passo dopo passo portano a compiere anche se magari inizialmente a piccoli passi quel cammino che ti incanala in una nuova situazione su una diversa strada in una diversa direzione questo dipende da tante cose da ciò che diciamo dalle scelte lavorative dalle scelte economiche dalle scelte dei nostri acquisti da ciò che decidiamo da ciò che muoviamo ogni nostra scelta piccola o grande che sia ha un effetto oggettivo materiale e vibrazionale attenzione bene perché tutte queste tre cose sono ovviamente come tutto il resto dell'universo connesse quindi si muovono di pari passo e allora tutto questo miscelarsi di idee di contraddizioni di pareri di paure ma anche di voglia di sapere e di capire ci può schiacciare oppure ci può risvegliare noi continuamente siamo sottoposti a messaggi siamo dei ricetrasmettitori quindi trasmettiamo e riceviamo possiamo essere inondati soffocati da ciò che riceviamo e andare totalmente in balia di ciò che riceviamo ma possiamo anche decodificarlo cercare di comprenderlo e elaborandolo andare a ritrasmettere i segnali positivi che ricaviamo da tutto ciò che riceviamo da tutto il bailame che riceviamo è tutta una questione di decriptare di decodificare di elaborare di tornare capaci del nostro libero pensiero padroni e coscienti del nostro libero arbitrio perché molti non sono nemmeno più coscienti di avere libero arbitrio sono diventati coscienti e consapevoli di doversi in qualche modo adattare agli schemi che gli sono proposti ecco perché non riusciamo più ad aggregarci perché non c'è stata solo una disgregazione ideologica di fatto ma c'è stata una disgregazione che ha disconnesso ognuno di noi non solo magari dal proprio essere ma anche da tutto il sistema cosmico e allora occorre riconquistare occorre riconfigurare questa connessione e il primo parametro per riconfigurare questa connessione il primo parametro da inserire è quello dell'autostima del volersi bene e dell'affermazione nel momento in cui io mi affermo io dico che voglio io dico che la mia azione per pur piccola che sia magari ma è importante e porterà un cambiamento inizio inevitabilmente non solo un cammino diverso ma una crescita individuale non di poco conto perché il cambiamento porta cambiamento perché l'affermazione ne porta il desiderio di affermazione porta a esigere sempre di più da se stessi perché nel momento in cui io mi affermo mi auto responsabilizzo nei miei confronti e questo è molto importante perché al momento in cui mi responsabilizzo nei miei confronti cresce l'autostima nel momento in cui io elimino il senso di colpa e lo vado a sostituire con il desiderio di correzione e cambia la vita perché io comincio a non vedere più il mio errore come un fallimento ma comincio a vedere il mio errore come una possibilità per imparare un percorso nuovo un qualcosa di nuovo e da lì inizia veramente il nuovo percorso il nuovo cammino oggi noi la possiamo sfruttare questa nuova situazione in realtà potremmo fregarli tutti e far crollare nel giro di poco tempo questo sistema obsoleto di concezione dell'economia di concezione dell'umanità e veramente andarlo a rinnovare il problema è che molta gente è convinta che non dipende da noi che non possiamo fare niente perché siamo troppo piccoli per fare qualcosa quando la realtà è completamente diversa perché se ci aggreghiamo siamo troppo grandi per fare qualcosa queste 16 17 20 persone che hanno in mano il mondo se noi ci riuniamo le schiacciamo perché loro dipendono da noi ma noi siamo convinti che noi dipendiamo da loro e allora se noi non cambiamo questa convinzione voi capite che non andiamo da nessuna parte e per cambiare questa convinzione occorre fare un lavoro interiore un lavoro introspettivo un lavoro di autostima di conoscenza di informazione un lavoro stimolante iniziando a comprendere quella che è la logica non solo della vita ma la logica universale dove tutto è in continuo mutamento dove tutto è in continua evoluzione dove ogni elemento muta e proprio facendo crescere questa consapevolezza noi potremmo veramente introdurci sul nuovo sentiero su una nuova strada e compiere quel cammino di cui oggi ci riteniamo incapaci solo così potremmo superare questo momento solo così potremmo uscire da quella che se no sarà una catastrofe globalizzatrice globalizzatrice senza precedenti e che veramente porterà una distruzione che poi sicuramente si ricostruirà ma richiederà molto ma molto tempo perché il genere umano sicuramente se non si sveglia si appresta a vivere anni di alienazione di non poco conto e chi ne è consapevole e inizia a mettere i piedi avanti farà un po' meno fatica a viverli chi non è non ne è consapevole avrà vita dura e allora iniziamo il cammino verso la consapevolezza verso la determinazione l'amore per se stessi il desiderio di riconnessione universale e la cosa più importante la propria affermazione la grandezza la meraviglia la potenza dell'affermazione e del nostro libero arbitrio per oggi mi fermo qui buona vita a tutti se volete scrivetemi a evolutore chiocciola gmail punto punto